A partire da oggi e fino al prossimo 10 gennaio 2019 cambia la configurazione stradale di piazza municipio. Alcuni interventi eseguiti durante la notte hanno consentito di ripristinare la percorribilità della strada antistante il Tar in entrambi i sensi di marcia, anche per i veicoli diretti a via Acton. È stato chiuso al traffico, inoltre, l'accesso a via Umberto Giordano da piazza municipio, mentre piazza francese da oggi sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.